NARANONNE Il fatto è di Jack Tessaro Il fatto è che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno. Così l'anatra, sul bordo dello specchio d'acqua, le spiegò con pazienza i vantaggi del nuoto. Ma non le riuscì affatto di convincerla e, vedendo che con le buone non otteneva nulla, decise senz'altro di spingerla in acqua, senza alcun successo. A quel punto l'anatra, indispettita, chiamò in aiuto il gatto. E il gatto spinse l'anatra che spingeva la paperetta, che nemmeno si mosse. Chiamarono allora il cane che spinse il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, che sembrava incollata a terra. Infine arrivò anche il tacchino, che spinse il cane, che spingeva il gatto, che spingeva l'anatra, che spingeva la paperetta, che non si spostava di un millimetro. E proprio quando sembrò che la sua resistenza potesse venire meno, il tacchino incominciò a urlare «Al lupo! Al lupo!» e tutti si stufarono nello stagno. «No, non tutti!» Naturalmente la paperetta rimase al suo posto. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino urlarono «Buttati! C'è il lupo!» Ma la paperetta non vedeva per niente il lupo. Vedeva un animale grosso, brutto e peloso, le cui intenzioni per lei erano fin troppo evidenti. Il fatto è che al momento non si trovava nello stato d'animo ideale per bagnarsi. Così spiccò un gran salto e andò a beccare il naso del lupo. Ci mise tutto l'impegno possibile e il lupo, colto alla sprovvista, ululando, ululando, fuggì a zampe levate. L'anatra, il gatto, il cane e il tacchino uscirono dallo stagno mogi mogi e grundandi d'acqua e se ne andarono via. Il fatto è che la giornata si era fatta bella e il sole scaldava l'aria. E alla paperetta nulla sembrò più opportuno che farsi un bel bagnetto nello stagno.